Fate giurisprudenza. E dopo giurisprudenza cosa hai fatto? Ti sei messo subito a lavorare? Ho fatto una start-up che si chiamava Italy and Italy. Ero l'amministratore delegato di una catena di fast food bellissima. Nel 1983 abbiamo aperto il primo a Rimini, di fronte al Grand Hotel. Era la proprietà del Grand Hotel di Rimini, la famiglia Arpesello. Poi è stato acquisito dal gruppo Cremonini di Modena, di Castelvetro, e io ero sempre il manager, fino al 1990. Poi è stata venduta a McDonald's, io mi sono messo in proprio, assieme a altri due soci, abbiamo fatto una società. Abbiamo fatto una società con il gruppo Heineken, una società partesa. Aprivamo locali in tutta Italia. Facevamo consulente e in uno di questi locali, per casualità, un giorno mi hanno, tra virgolette, sfidato per andare sul palco. Mi hanno visto Gino e Michele. Nel 1991 mi hanno proposto di fare una trasmissione che si chiamava Sulla Testa con Paolo Rossi, ma io avevo altre cose per la testa. Nel 2002 ho debuttato. Quindi io ho debuttato a 44 anni. Sono andato sul palco per Ignorantessa, così. Non calcio noi cusci, ma mi sono divertito. Ancora oggi mi diverto. Poi Gino e Michele mi hanno detto, Paolo, non fare solo televisione, perché la televisione non è imparativa. Fa teatro. E anche Claudio me l'ha detto. E da lì ho cominciato a fare teatro. Ah, pazzesco. Ma pensavo invece che tu avessi fatto il classico percorso, insomma, un po' di formativo e quindi fosse, no? Zero. Quindi sei così. Cioè, ti veniva così e basta? Io mi definisco un imprenditore con l'hobby del cabaret. Wow. Ma da quando hai cominciato a avere successo come comico? Comico non so se sia la parola giusta o quella che preferisci. No, bene. Non è neanche così. No, come personaggio, ecco. Hai, diciamo, sempre continuato a fare l'imprenditore per i fatti tuoi? Oppure dopo un po' hai detto basta, no? Adesso faccio... No, ho cambiato settore, diciamo, dopo tre anni ho mollato l'attività del settore della ristorazione e ho prodotto, assieme al mio manager Roberto Gemelli, tutta una serie di... Grazie a lui, perché poi la parte operativa è tutto sua, compreso anche il film. Tutti questi spettacoli teatrali e un sacco di altri, abbiamo fatto un sacco di altre cose. Adesso stiamo progettando una serie che era già pronta, ma poi col Covid ci siamo fermati, che si intitola Capriole, storie di fallimenti e di rinascite. Abbiamo già intervistato una trentina di persone che hanno toccato il fondo e hanno fatto lo scapuzzo, quindi da ragazzi che hanno fatto un percorso contro la tossicodipendenza, accarcerati, immigrati, clandestini e non... Abbiamo raccolto testimonianze per dire che la sconfitta non è l'ultima parola. Devo dire, è un progetto che mi piace moltissimo. Bello.